Questo è quello che adesso ultimamente ho ripreso con la mia ragazza a meditare tutte le sere Insieme? Insieme meditiamo Nudi? No Perché altrimenti non riusciremo a concentrarci nella meditazione Comunque passo un attimo sulla sedia perché adesso le ginocchia iniziano a duolirmi Ok, ma che meditazione fai? Ho le ciabatte anche in legno Ok Mi fa il ginocchio guarda tutto zigrinato Vedi, c'ho il ginocchio che si consuma Ma ce l'hai? Scusami, che meditazione fai? No, non ce l'ho un mantra, non faccio No, ma non so neanche cosa sia un mantra, che cos'è? Che ti ripete in testa una cosa? Certo, una parola che ti può essere data magari da un maestro che tu usi come aggancio Per... Per riuscire a meditare in maniera più profonda Per far stare in silenzio quei pensieri costanti